buonasera a tutti e rieccomi in un nuovo video o meglio sempre al solito ormai lo sapete dovete semplicemente commentare questo video scegliendo i quattro giochi che volete martedì sera nella live ps4 quindi scegliete voi giochi che volete i quattro migliori andranno in onda io vi aspetto martedì alle ore 21 su ps4 ciao grazie